La moglie del mercante Devo dire che mi ha fatto veramente tanti regali preziosi, lo amo tanto, però sì, devo dire che ha fatto proprio bene a sfidare quel pellegrino, anche se quel pellegrino era molto muscoloso, sì, in effetti non sembrava proprio un pellegrino, però ha fatto proprio bene, anche se Damo a Ginevra era d'accordo con me sul fatto che mio marito non ce l'avrebbe fatta. Che donna strana, Cuba, sì, sì, però di alta moda se ne intendeva, mi piaceva proprio la moda europea come a me, d'altronde. E però sì, sono d'accordo anch'io che mio marito non ce l'avrebbe fatta e ora non potrà più sfidare quel pellegrino. Beh, vi ho detto tutto, ora lasciatemi andare a dormire. Ciao!